è una questione di luce, non ti preoccupare non si vede niente Giorgio, devi passare la gente lo dite, passate, passate non hai capito la regia prego, prego come sempre Abba di Arrania è presente alle grandi manifestazioni davvero popolari e davvero per il po' e non solo ma storiche questo è un messaggio che lascerà il segno della storia dell'umanità per una presa finalmente di posizione da parte della Chiesa che erano decenni che non aveva il coraggio e la forza di farlo ipse dixit